Bentornati nel mondo nuovo 2.0. Oggi inauguriamo un nuovo format che ho deciso di intitolare Sani dibattiti. Qui con me ho due ospiti. Abbiamo Valerio. Ciao Valerio. Valerio è un ragazzo trans che io ho intervistato già l'anno scorso. Abbiamo parlato, ci ha raccontato la sua storia, un po' la sua visione del problema dell'ideologia gender versus transessualità, che sono due cose diverse. Quindi ti do il benvenuto oggi. Poi abbiamo Marco. Anche Marco è stato intervistato da me l'anno scorso. Marco è un poeta, è autore di un saggio sull'aborto e la propaganda. E inoltre è anche mio quasi marito e padre di mia figlia. Diciamolo dai, diciamolo. Grazie Eli. Sono contento di ritornare a chiacchierare qui sul tuo canale. Oggi faremo un dibattito con questi due ospiti e parleremo proprio, partiamo dalle basi, parliamo delle transizioni sessuali. Perché da una parte abbiamo una posizione che è quella di Valerio che adesso ci esporrà sulle transizioni sessuali in quanto persona trans e poi abbiamo una posizione di Marco che si concentra più sulla parte etica piuttosto che quella del, come dire, la necessità individuale di fare una transizione. Quindi io darei inizio a questo dibattito, sano dibattito direi, chiedendo a Valerio qual è la sua posizione appunto sulle transizioni sessuali, sia per quanto riguarda i minori che per quanto riguarda gli adulti. Allora, devo dire che rispetto all'intervista dell'anno scorso ho avuto modo di mettermi anche un attimo in discussione. Comunque, partendo dalla questione sui minori, io sono contrario, nel senso sia a una transizione sociale, quindi a rendere il minore, a fare sì che il minore possa vivere secondo il genere voluto, ecco quello che sente di essere, sia a un eventuale percorso coi bloccanti, se non addirittura ormonale, per diverse ragioni che sono state esposte anche nel canale e ho esposto anche nell'intervista dell'anno scorso. Invece, sulle transizioni per gli adulti, io sono ovviamente pro, però ho una visione, nel senso ridiscuterei come vengono fatte e il punto che ho rimesso in discussione è stato un attimo anche l'affidamento che si fa sullo psicoterapeuta, perché purtroppo mi rendo conto che oggi molto spesso affidarsi a uno psicoterapeuta, soprattutto un gender therapist, vuol dire mettersi in mano a una terapia affermativa che secondo me anche per l'adulto può essere dannosa, quindi io sì sono per la transizione, però deve essere qualcosa di pesata molto molto bene e soprattutto vista con un'ottica totalmente diversa da come viene vista oggi, quindi non parlare nemmeno di cambio di sesso, di diventare veramente donne uomini e queste cose, insomma, tutto quello che fa l'ideologia gender fondamentalmente e avere un approccio più realistico, questo semplicemente. E tu quale tipo di paletti metteresti durante un processo di diagnosi di disforia di genere? Innanzitutto vedere se ci sono altri problemi, altre manifestazioni, cioè che altri problemi che vanno poi a essere confusi con la disforia di genere e soprattutto valutare se è il caso della persona, cioè io penso che come per altri disturbi o altre situazioni, quello che fa bene a me magari non è la stessa strada per una persona. Ci sono persone che per loro motivi che non sta magari il medico a affrontare, faccio un esempio, anche posizioni religiose, mi è capitato sempre di vedere, faccio un esempio pratico, mi è capitato di vedere le transizioni e ritransizioni continue da parte di persone che avevano un forte conflitto religioso. Ecco, io penso che queste persone non devono essere spinte a fare qualcosa che non riescono ad accettare. Magari per questa persona la loro, la soluzione data a questa persona era semplicemente un altro modo, un altro coping se vogliamo utilizzare un termine in inglese. Mentre magari per una persona come me è efficace la transizione, quindi fare qualcosa di più personalizzato ed aprire le scelte anche certo sui dati, perché comunque si può dire che le transizioni danno anche beneficio. E soprattutto la transizione che non deve essere vissuta come qualcosa da un punto A a un punto B, ma anche questo è un percorso personalizzato, secondo me. Quindi adeguarsi sulle necessità del paziente senza starlo a spingere o invogliare operazioni o cose che non vuole fare e trovare un compromesso con la realtà, quello che dico sempre. Grazie. Marco, chiedo a te invece qual è la tua posizione sulle transizioni sessuali? Innanzitutto io apprezzo l'attenzione che è stata posta sull'importanza di personalizzare il trattamento medico, perché oramai c'è un mercato del trattamento chirurgico, cosmetico e farmacologico in generale. E quindi questa è un'attenzione, è una cautela che apprezzo, anche se poi alla fine il discorso è sempre quello, va a costituire la porta d'accesso come la prima porta che si apre e una volta aperta questa se ne apriranno tante altre, irrimediabilmente, inevitabilmente. La mia posizione sulle transizioni sessuali è radicale, per me è un onore e un privilegio essere il compagno di Elisa, mi ha permesso di imparare tante cose sulla storia delle transizioni sessuali, di tutto ciò che muove a livello teorico questi processi e poi dopo di questo io ho cercato di riassumere quello che stavo maturando come idee in un saggio più ampio, cercando di avere uno sguardo più ampio che parte dalla liberalizzazione di fatto degli aborti. Per me le transizioni sessuali, le cosiddette transizioni sessuali, costituiscono una delle prime, non la prima proprio perché ci sono gli aborti legali liberalizzati come prima, una delle prime manifestazioni concrete a livello massivo del transumanesimo, dell'eugenetica applicata in uno stato di pace sociale, di apparente pace sociale, dove i civili possono tranquillamente in nome di concetti positivi appositamente elaborati dalla propaganda, distruggere loro stessi. Perché dico transumanesimo? Perché è proprio il salto in avanti dell'uomo che dopo aver distrutto Dio ha eretto un nuovo Dio, questo genio astratto che è il suo stesso intelletto, il razziocinio e in nome della perfezione del suo razziocinio segue questa idea astratta di libertà che è stata molto mistificata e sul pretesto della libertà individuale e personale arriva a dire sì, tu puoi ucciderti, tu puoi effettuare dei trattamenti che non hanno senso da un punto di vista medico. Per cui la domanda per me a un certo punto della riflessione è divenuta ma che cos'è la transizione sessuale e quindi che cos'è la medicina e qual è il ruolo che deve svolgere la medicina? Sono andato ovviamente a ripescare, perché poi si sa le cose più semplici sono quelle che ti aiutano di più in una ricerca, sono andato a ripescare il giuramento di Ippocrate, che è un testo lungo una paginetta di una bellezza disarmante, poi ne è stata fatta un'altra versione che non è minimamente paragonabile al vero giuramento del medico Ippocrate di Kos, medico greco. Sono andato a riprendere quel giuramento, quei concetti, forte anche dell'esperienza assolutamente delirante che abbiamo vissuto negli ultimi anni con la pandemia e sono andato alle basi, al fondamento, che cos'è la medicina. E quindi da un punto di vista etico io trovo che le transizioni sessuali, per ritornare a noi, cozzino completamente con l'etica medica, mettono in discussione il fondamento dell'etica medica, della medicina e trasformano inevitabilmente la medicina come arte, prima ancora che scienza, in un'attività consumistica, in una cosmesi, per cui la chirurgia estetica, che per decenni è stata anch'essa propagandata, è di due giorni fa la notizia che, mi ricordo, una partecipante al grande fratello argentino aveva subito una complicazione da un'operazione di chirurgia estetica ed è morta un paio di giorni fa, mi pare si chiami Luna, Silvina Luna, una cosa del genere. E quindi decenni di chirurgia estetica e adesso le transizioni sessuali, le cosiddette transizioni sessuali, che sono molto più incisive, molto più profonde, portano con loro stesse l'idea che sia possibile cambiare sesso, quando il concetto di genere non è mischiato a quello di sesso, alla realtà sessuale. Per cui bisognerebbe anche riprendere il concetto di genere e io lo, come dire, mi sto dilungando, ma anche il concetto di genere è problematico, andrebbe ridiscusso, secondo me andrebbe in qualche modo abolita la categoria genere. Lo vedo come un concetto molto mistificatorio, molto insidioso, non ne abbiamo bisogno, io parlerei più di sesso e basta. Potrei continuare, io non so se volete che mi fermi un attimo, perché è una critica lunga che ho sviluppato. Poi lo approfondiamo sicuramente. Valerio, volevo chiederti che cosa ne pensi di questa visione del problema delle transizioni sessuali come non tanto un problema dell'individuo in sé, ma come un problema di etica medica. Cioè che cosa è lecito che faccia un medico se lo richiede il paziente? Io qui posso parlare in maniera molto limitata perché mi manca proprio una conoscenza approfondita in materia, però Marco ha detto le cose che aprono un portone su cui magari ci vorrebbe un'altra ora solamente per parlarne e c'è tutto il discorso del transumanesimo come anche viene visto. Però ha aperto anche tanti portoncini in cui voglio dire qualcosa e su cui in realtà sono parzialmente d'accordo con la sua visione, nel senso ad esempio sul discorso di estetica, cioè di chirurgia estetica e medica. È vero che la transizione è quasi come se fosse a metà secondo me, perché si percepisce un disagio che è diverso secondo me da una, come posso dire, da un vedersi male ad esempio una persona che ha un disturbo dell'immagine, non so come si può chiamare, dismalofofobia, insomma vuole rifarsi le labbra eccetera in maniera anche pericolosa e quindi fa uso della chirurgia estetica per arrivare al tuo risultato. La transizione secondo me porta un disagio molto più invasivo da questo punto di vista e soprattutto anche a livello di rischio e beneficio, secondo me è questo che si deve calcolare, cioè qual è il rischio e qual è il beneficio e soprattutto quando si parla di transizione, in che modo ne parliamo? Perché transizione vuol dire tante cose, cioè vuol dire prendere solamente gli ormoni, vuol dire procedere per un'operazione, due operazioni fatte in un modo diverso. Quindi io innanzitutto, cioè prima di arrivare al discorso di abolizione radicale, anche sulla mia esperienza, tendo a vedere le opzioni che vengono offerte, cioè quello che ad esempio mi viene da dire è, ma perché ignorare ad esempio il benessere mentale che una persona transessuale ha comunque dalla transizione mentale e sessuale, perché comunque è un problema collegato. Questo al di là adesso dell'operazione ai genitali sì o no, perché come capita spesso magari con la sola terapia ormonale si riacquisisce un equilibrio sessuale personale che prima era negato, la mia esperienza come l'esperienza di altri ad esempio. Quindi io fare questo discorso sul rischio beneficio e mi è venuto di riflettere anche sul discorso della chirurgia estetica perché veniva in mente una questione. Io ad esempio sulla chirurgia ai genitali ho una posizione critica, cioè nel senso che da un lato non me la sento di dire vietiamo questa cosa, dall'altra direi sarebbe preferibile assolutamente trovare mezzi meno demolitivi o quantomeno assicurare o premere affinché la persona conservi i suoi gameti ad esempio, anche solamente per una questione di principio, perché comunque a me pare una demolizione piuttosto significativa sia dal punto di produttivo sia dal punto proprio fisico. Mentre invece posso fare l'esempio di una, come si può dire, una mastoplastica additiva o comunque quella che viene detto mastectomia, anche se il nome tecnico è, penso, mastectomia riduttiva per come viene fatto, cioè che è un'operazione che differisce dall'amputazione rispetto ai tumori del seno. Mi è venuto a fare il parallelismo con la mastoplastica riduttiva che viene fatta alle donne che per problemi ad esempio alla schiena ma anche personali si sottopongono appunto a questa operazione e ad esempio a cui viene compromesso l'allattamento, quindi anche queste persone in un modo diverso perché lo fanno in quantità ridotta e per un altro fine, ma subiscono lo stesso danno se vogliamo che subisce un F2M, cioè ovvero l'impossibilità poi di allattare, quindi di utilizzare il seno nella maggior parte dei casi, ci sono anche eccezioni. Quindi io quello che volevo puntare è il benessere però che ne ricava in questo caso il paziente o la persona che affronta la transizione. Poi avrei altre cose da dire ma è un tema piuttosto ampio per cui magari mi sto perdendo anche, magari una prossima domanda specifica aggiungo altro. Sì, allora, nello specifico io ti posso chiedere, non credi come ha ipotizzato Marco che la figura del transessuale, cioè quindi come persona che si sottopone, non ti parlo del self ID, di quelle cose lì, autodeterminazione, di uno che dice sono trans e non fa niente a riguardo, ma di una persona che intraprende proprio un percorso di transizione medica, quindi o solo ormoni o ormoni e chirurgie, eccetera eccetera. Non pensi che sia in qualche modo transumana questo tipo di figura? Perché va un po' a creare un ponte, no? La stessa parola trans è trans da uno all'altro. Il problema che pone Marco è il dottore, no? Tu dici c'è una persona trans che avrà sicuramente un benessere, ricaverà un benessere psicologico della transizione. Però abbiamo visto comunque nei casi dei detransitioner che a volte una persona poi se ne pente e quindi lì subentra, no? Il problema anche di etica medica. Come faccio io a sapere che questa persona non si pentirà? Allora sulla prima domanda, io su questo però ho da dire ciò, cioè per tante pratiche mediche si ha un rischio, per tante cose la gente magari può pentirsi anche semplicemente di aver preso uno psicofarmaco o un psicofarmaco oppure a volte la medicina sbaglia anche di agnosi. Con questo non sto andando a sottolineare i problemi delle detransizioni perché come sappiamo dietro c'è un mondo, c'è un mondo fatto di ideologia, c'è un mondo fatto di trascuratezza, di appunto selfie di eccetera, però c'è un mondo anche in parte da persone che hanno sbagliato o per cui era quasi, che poteva essere evitabile, certo, abolendo le transizioni in toto, sì, però magari queste persone hanno sbagliato in un modo che dietro magari non c'era meno ideologia possibile, ecco, oppure anche la persona è cambiata nel tempo, quindi la persona va tutelata nel senso che gli si deve dare l'aiuto, gli stessi centri che dovrebbero essere specializzati in queste cose dovrebbero aiutare queste persone ad esempio, però mi viene da dire che comunque il rischio è inevitabile, cioè anch'io ho accettato il rischio di detransizionare un giorno o di pentirmi, poi per adesso non è accaduto e sono soddisfatto, ma l'ho accettato, questo è stato cruciale per me per iniziare. Punto primo. La seconda domanda del transumanesimo, allora, non direi che il transumanesimo, come posso dire, ha come fine, come posso dire, la confusione di genere, eccetera, anche perché penso che ci siano diverse scuole, diverse ideologie, se vogliamo dire il transumanesimo, e non penso che tutte siano collegate a, come posso dire, obiettivi, passatemi il termine, un po' da girgo, davosiani, ecco. Non penso proprio, anche perché si occupano molto di crescita, piuttosto che di decrescita, e di potenziamento, piuttosto che di depotenziamento, se devo fare un esempio di transumanesimo, io prenderei anche della Russia sovietica o dell'inizio, insomma, del cosmismo russo, eccetera. Però sì, vedo comunque nel transessuale il pizzico di transumanesimo, questo sì, anche se in una maniera molto primitiva, nel senso che alla fine stiamo ancora giocando con la biologia, con gli ormoni, col corpo, per cui non è che si sta parlando di chissà che liberazione. Mi permetto questa cosa un po' personale, ho fatto una riflessione anche su un lavoro, diciamo, artistico, dove mi concentravo sulla limitatezza del transessuale, cioè un transessuale che alla fine rimane limitato nella sua carne, che tanto non cambia fino a un certo punto, quindi se vuole aspirare a qualcosa di più alto, ecco, non è sulla carne che si deve concentrare, non è il fatto di prendere ormoni o di tagliarsi parti del corpo, aggiungere una protesi che lo farà arrivare chissà dove, quindi già questo per me, insomma, sì, dico sì, c'è il pizzico di transumanesimo nel senso di affermazione dell'individuo, questo sì, però non lo vedo completamente per il resto, perché lo vedo già con una cosa finita, una cosa esaurita, secondo me, però sul discorso dell'affermazione dell'individuo, quindi dell'individuo che dice io posso cambiare me stesso, posso cambiare come Dio mi ha fatto, perché poi il punto di tale è Dio, penso che io parto da una concezione, io non sono ateo, ma per gli standard magari di Marco sono ateo, perché comunque non penso che, non ho la sua stessa visione di Dio, però penso che sia questo il punto, un punto cruciale su cui si può cambiare molto, ma è difficile arrivare, secondo me, a un punto di intesa. Marco, come risponderesti? Abbiamo toccato punti cruciali, transumanesimo, Dio. Sono stato detto tante cose, una parola importante che è stata detta è liberazione, mentre si parlava di transumanesimo, non vedo tutta questa liberazione, ma qui si apre un portone veramente grande e si va sul filosofico, liberazione da che cosa? Che cosa si intende per liberazione? Io credo che l'essere umano ha la sua liberazione quando aderisce al suo ruolo di natura, questo è un concetto che ho sviluppato, di cui ho parlato tanto, anche nel saggio che ho scritto. È stato detto anche, la transizione sessuale non lo vedo come un fine del transumanesimo, di fatti non è un fine, secondo me è un mezzo, ed è sia a livello teorico, perché comporta tutta la sostituzione dei ruoli di natura, dell'ordine naturale, del concetto di Dio e di mille altre cose, con il capriccio del desiderio, con l'antietica del desiderio, la manifestazione della volontà di potenza. Io posso, cioè io voglio, dunque posso, dunque lo Stato mi deve assistere. Ma di fatto nel modificare così profondamente un corpo umano, poi i limiti chissà quali sono, perché i limiti sono fatti per essere infranti, si andrà sempre più oltre, nel modificare un essere umano si ha già un mezzo del transumanesimo. Guarda, io sono giunto alla conclusione, dopo anche gli ultimi anni, dopo le follie degli ultimi anni, sono giunto alla conclusione che per le dirigenze politiche ciò che conta è ottenere informazioni utili ai loro fini. Probabilmente, sono arrivato a ipotizzare questo, il loro fine principale è quello di scoprire come vivere per sempre, o più a lungo, come diciamo procrastinare la morte. E quindi hanno bisogno di fare continui esperimenti sui corpi umani, possibilmente con il consenso dei cittadini sudditi, che intanto vengono riconosciuti e tutelati, in quanto aderiscono al comando e agli esperimenti elaborati dalle dirigenze. Lo abbiamo visto in diverse forme. Secondo me le transizioni sessuali possono essere inquadrate esattamente come un altro di questi esperimenti. L'essere umano spontaneamente aderisce a questa sperimentazione barra esperimento e intanto le dirigenze acquisiscono nuove informazioni su come si può modificare il corpo, sia all'interno che all'esterno, con vari interventi di qualunque tipo. Qui tanto abbiamo sfondato la porta dell'oblio, è tutto un salto nel buio questo qui. Questi sono tutti i trattamenti sperimentali che non si sa mai dove portano. L'unica cosa certa che si sa è che un lavoro che inizi sei una cavia per il resto dei tuoi giorni. E già questo è una cosa che dovrebbe mettere i brividi, perché con tanta facilità si parla di operazioni, di castrazione, di mutilazione dei genitali, ma anche solo banalmente la forma sociale cosiddetta, per cui io comincio a pretendere che il mondo si rivolga a me appellandosi a me con l'altro sesso, con i pronomi dell'altro sesso. E com'è possibile che tutto ciò avvenga? È sempre questa la domanda da analizzare. E com'è possibile? Perché c'è una propaganda martellante che da decenni, forse da secoli, noi abbiamo anche sentito parlare di rapporto rischio-beneficio, che è un termine, un'espressione, rapporto rischio-beneficio, e quindi cambia anche l'approccio, la valutazione. Io guardo un fenomeno, guardo una possibilità sbloccata dalla tecnologia, come a una questione astratta, e dico il rischio in astratto è questo, il beneficio anch'esso in astratto è questo, chi può decidere io? E se io decido che devo, allora lo Stato anch'esso deve assistermi. Ma nel far ciò io non ho fatto altro che aderire a una visione dell'essere umano statistica. L'essere umano è già stato ridotto a un calcolo statistico, per cui è vero che, per l'amor del cielo, in medicina il rischio vero, come nella scienza, l'errore zero non esistono, ho capito, ma ci sarà un limite a ciò che, io non parlerei di rapporto rischio-beneficio in astratto individualmente, io parlerei della tollerabilità etica di un trattamento e dei rischi che comporta. Se nelle transizioni sessuali, dove i rischi e le certezze in termini di danno sono tante, sono gravi, nel caso delle transizioni sessuali, paradossalmente, se anche il rischio fosse zero spaccato, zero assoluto, comunque mi verrebbe da domandare ma il senso di effettuare una transizione sessuale qual è? Illudere una persona che un travestimento tecnologicamente avanzatissimo possa permettere di cambiare sesso. Anche questo è un andare contro natura, per questo io parlavo prima del ruolo di natura. non si può cambiare sesso, il fine qual è? Stare meglio, ma tu affronti un disagio che se è disagio è psicologico, con un intervento fisico, estetico, ormonale, genetico, in futuro, quale sarà quindi poi il limite? Io posso fare tutto. Se io dico che ho un disagio psicologico, che ho bisogno, non lo so, di attaccarmi un terzo braccio sulla schiena, vado dallo Stato e dico Stato tu devi assistermi, io mi identifico come un uomo con tre braccia e quindi mi devi attaccare un braccio sulla schiena, mi deve pure funzionare. è una follia, seppure il rischio fosse zero, non lo è, resta comunque una legittimazione, una normalizzazione della normale. E ho capito che i trans sono sempre esistiti, ma un conto è l'esistenza di un qualcosa che non è la norma, è l'eccezione. Un altro conto è dare il sigillo etico statale e quindi avallare e quindi assecondare, promuovere quello che a conti fatti, per come la vedo io, dopo questi anni di riflessione, resta un esperimento delle dirigenze di possesso e controllo. Chi ha potere, chi ha raggiunto il potere, ne vuole sempre di più, o meglio, vuole essere sicuro di poterlo conservare. E come fa ad esserne sicuro? Deve aumentare costantemente i livelli di controllo. E come fa? Lo fa facendo esperimenti sugli esseri umani, sui cittadini cavia. Questo è il concetto che io, diciamo, da un punto di vista politico, di critica politica, sono arrivato a sviluppare. Il primo cittadino cavia, il cui corpo viene violato in maniera irrimediabile, è il concepito, per cui la liberalizzazione degli aborti. Adesso le transizioni sessuali, in cui in nome della libertà, del benessere, dell'inseguimento di una chimera, di una felicità, sempre a un passo da noi, è raggiungibile come assecondando quello che ti propongono i loro signori. E guarda caso, è un altro business, invasivo, rischiosissimo, perché questi non hanno senso dell'etica, figuriamoci, della medicina. Allora, Marco ha parlato di travestimento tecnologicamente avanzato e io mi sono sempre chiesta, no? E ha parlato anche del fatto di essere costretti a rivolgersi a una persona trans con i pronomi scelti da lui, barra lei. E io qui ho sempre avuto un po' un, non dico un conflitto, però uno spunto di riflessione, perché se da una parte con il self-ID tu sei davvero costretto a obbedire ai capricci della persona che hai davanti, perché uno, un maschio che mi dice io mi chiamo Genoveffa e mi devi dare del lei, faccio fatica, no? Però se vedo Valerio che ha fatto la transizione medica e ha un aspetto maschile che è quello che Marco definirebbe e ovviamente oggettivamente è così travestimento tecnologicamente avanzato, si pone un altro tipo di problema, perché io non riuscirei, cioè farei veramente fatica a dare del femminile a Valerio con questo aspetto, pur io sapendo che è una femmina e anche Valerio sa di essere femmina se non avrebbe fatto la transizione e quindi, cioè, siamo sempre lì, no? Questo travestimento, si pone un altro problema nei confronti della società, è lecito ingannare, tra virgolette, la società con questo travestimento? Questo è un altro tipo di problema secondo me che va a posto? Infatti, questa cosa che ha detto Marco nella precedente risposta a questa mi era piaciuta, perché questo è anche stata una cosa su cui ho riflettuto molto, per concludere che c'è tanto del sociale e mi aveva stuzzicato il discorso suo anche della ridiscussione se non abolizione del concetto di genere, perché in maniera forse da matti probabilmente perché forse è fattualmente impossibile ma non lo so voglio dire viviamo in questa società per cui magari c'è difficile immaginarlo adesso questo senza eliminare il discorso della transizione per quanto mi riguarda perché mi attengo a questa posizione mi dicevo ma io in una società dove è concepito l'essere femmine così come sono io adesso potrei vivere da femmina da femmina proprio cioè nel senso con il corpo che adesso e tutto insomma io direi di sì cioè nel senso sarebbe più coerente a livello biologico però mi rendo conto che l'uomo poi l'umano per tutto questo tempo ha sempre identificato maschio e femmina giustamente con i tratti sessuali secondari che sono derivanti dagli ormoni e dal sesso per cui anche qua cosa vogliamo cambiare anche questo è cambiare la natura in un certo senso cambiare una concezione che deriva da assunti naturali ma in parte l'abbiamo già fatto cioè d'altronde oggi concepiamo la donna come iper femminile rispetto a com'è di natura e questo me ne approfitto per dire una questione anche su come la penso io sul discorso che si ricollega al transumanismo sull'uomo io non penso che esista l'uomo nel senso così come esattamente così come all'inizio e sarà per sempre cioè vedo un essere in divenire quello che è stato prima non è adesso e quello che sarà un domani anche senza intervento umano non sarà quello che è oggi quindi un conto è se vogliamo dire che deve essere solamente il caso o la natura a sancire queste modifiche ma di fatto io penso che l'uomo sia istintivamente portato a manovrare la sua evoluzione e a manovrare anche quello che ha intorno anche attraverso sociale ecco sul discorso ad esempio per tornare al discorso del genere della socializzazione io infatti anche qua c'è un punto molto poeticamente scorretto su che base io do del maschilo femminile è una persona trans è una persona trans che anche volendo non è riuscita a passare anch'io potrei fare fatica a dare quello che il pronome desiderato e lo faccio per rispetto perché mi immedesimo e tutto non per voler dire che quella persona è veramente del sesso in cui si identifica ma questo lo direi in generale cioè quando io dico persona trans quando dico donna trans io sottintendo già maschio che ha fatto un percorso quindi per me non vuol dire la femmina chiaramente c'è il discorso della percezione questo questo sì il discorso della percezione secondo me in particolare dovrà toccare un lato istintivo dell'uomo ecco c'è quello di riconoscere la persona secondo i tratti sessuali però sì sul discorso di genere sarei pronto a ridiscuterlo sinceramente anche per riportare a sé il concetto di sesso genere cioè femmina femmina donna maschio maschio uomo quindi non maschio boh uomo donna femmina boh chissà uomo donna non binary quello che è un'altra cosa che volevo dire sempre sulla motivazione e sul tecnologicamente avanzato che diciamo che si tecnologicamente avanzato se si intende il fatto che è anche abbastanza irreversibile per cui sempre parlando dell'uomo io sono comunque la persona adesso non sono più la persona di prima ed io sono effettivamente quello che sono ora perché non tornerò più indietro rispetto a delle modifiche questo questo è poco ma sicuro quindi non è che sono qualcos'altro lo scopo secondo me o meglio lo scopo sano secondo me non può essere quello di cambiare sesso almeno adesso no cioè io magari abbiamo trovato un equilibrio in questo modo di essere che però ammetto essere un modo di un modo di essere atipico cioè che non rientra appunto nel nel maschio o nella femmina così come pensata diciamo in natura per cui anche qua forse si dovrebbe ridiscutere anche questo discorso e eliminare il discorso del cambiare sesso si deve dire accordare di più magari un tratto quindi farlo diventare appunto una cosa quasi più esteriore per non dire estetica però sempre motivata da ragioni molto invasive e molto profonde perché in realtà per me già solamente il fatto di aver superato delle cose che per me prima erano una difficoltà o comunque stare bene sereno attualmente nel vivere il mio corpo per me è già un traguardo un fine per cui potenzialmente potrei fermarmi qua ecco e questo è parlo di me perché parlo di me ovviamente anche altri hanno questa esperienza altri no qui la sostanziale differenza di opinione a riguardo è che da una parte Valerio falleva sul desiderio individuale che deriva da un disagio psicologico e per stare meglio si fa la transizione da adulti e con paletti ho fatto un riassunto decente della tua posizione Valerio sì diciamo cioè desiderio individuale ecco mi hai ricordato un attimo questo appunto scusami allora un contro è una volontà nel senso che io decido che torta scegliere un contro però qui ho questa scelta in un certo senso la faccio perché dietro è una forte cioè un forte disagio una forte motivazione quindi non è un desiderio vagonabile a un capriccio secondo me per questo io ho riflettuto molto anche sul ruolo dello Stato e attualmente non ho una grande risposta quello che posso dire è che mi sta molto antipatico il discorso che si debba pretendere un aiuto allo Stato non considerando la transizione cioè la disforia di genere un disturbo secondo me va considerato un disturbo però io faccio la scelta tanto quanto la farei per un'altra situazione faccio un esempio parallelo magari io ho un disturbo psicologico e mi vengono prescritti di psicofarmaci sta a me scegliere se prenderli sì o no certamente se li prende perché è un disagio quindi sarebbe giustificato però in ultima istanza sono sempre io che decido anche di non farlo questo è il discorso quindi una lieve differenza ecco tra scelta così e scelta condizionata ecco ok e la posizione di Marco invece si concentra più sull'etica medica rispetto alla volontà individuale giusto? sì il discorso si riallaccia subito a quello che è stato appena detto sta a te scegliere se alla fine prenderli oppure no ma prima di questo momento in cui sta a te sta alle istituzioni potremmo dire in astratto sta a tutti stabilire se proporteli oppure no se renderli disponibili oppure no questo è il momento fondamentale in cui si ha come dire il taglio tra ciò che è tollerabile e ciò che non è tollerabile quindi poi si sa che la storia della medicina e della farmacologia annovera anche casi molto gravi di farmaci immessi sul mercato e poi ritirati dopo effetti avversi volevo aggiungere anche se il problema è il disagio come dire psicosociale non solo psicologico individuale per cui se l'individuo fosse isolato e vivesse da solo e viene difficile pensare a una situazione in cui un individuo isolato manifesta l'esigenza di cambiare sesso per apparire diversamente dinnanzi a chi a se stesso e comunque sia poniamo il caso in cui c'è una disforia di genere sappiamo che il concetto di disforia di genere proprio come quello di genere è problematico sul tuo canale Elisa abbiamo visto come è definita la distoppia di genere con quell'elenco insulso che veramente non si capisce come si possa anche solo accettare una cosa simile una cosa a livello di semplificazione così banale poniamo il caso di una disforia di genere ma questa disforia di genere quindi diamolo per buono c'è un caso di una disforia di genere come lo affrontiamo come agiamo e di nuovo il problema qual è l'essere accettati per cui se si è donna ci si sente uomini pur essendo donne oppure ci si sente donne pur essendo uomini se il problema è solo questo allora a un disagio in larga parte sociale relazionale pragmatico contestuale diciamolo si deve dare una risposta che agisce proprio a quel livello a livello contestuale sociale di sensibilizzazione non è andando a modificare il corpo la cellula il codice genetico perché tu così riduci solo l'uomo a una cavia da laboratorio e non hai comunque risolto alcunché perché hai risposto a un disagio psico sociale psicologico con un intervento invasivo di questo tipo che sicuramente lede tutti i principi dell'etica medica del giuramento di di ippocrate di ippocrate prima non fare del male non arrischiarti così gratuitamente per fare cosa l'essere umano è un essere in divenire a livello storico dei secoli ma per quanto sia un essere in divenire resta pur sempre un membro di una specie sessuata e questo non si cambia se non si vuole non è possibile e io ripeto capisco che siano esistiti transessuali a vario titolo nel corso della storia ma mai come nella modernità nell'epoca contemporanea era stata data in pasto e offerta alle masse la possibilità l'opzione perché si è sbloccata a livello tecnologico commerciale di mercificare del tutto il proprio corpo e questo poi ti porta a tanti altri problemi come l'utero in affitto sono tutte cose secondo me collegate e sono cose di cui parleremo nei prossimi dibattiti sicuramente anzi io invito chiunque volesse partecipare ad un dibattito insomma di contattarmi e di dirmi su quale tema vorrebbe dibattere e secondo me il formato del dibattito può aiutare molto perché in questo caso abbiamo due posizioni diverse ma non così diverse perché sia da parte di Marco che da parte di Valerio noi abbiamo un'apertura nei confronti dell'altro anche se non si condivide abbiamo un'apertura a capire la posizione dell'altro e una cosa che io trovo veramente malata nel mondo di oggi è che non si può più discutere su niente un transattivista ad esempio non potrebbe sostenere un dibattito così perché la prende sul personale qua non si stanno facendo discorsi sulle vite personali delle persone si cerca di capire a livello sociale a livello anche filosofico di che cosa stiamo parlando quando parliamo di una transizione sessuale e quindi secondo me un confronto iniziale come questa puntata insomma un confronto iniziale su questo tema che vede due posizioni appunto diverse ma non così radicalmente diverse può essere un buon punto di partenza e voi volete aggiungere qualcosa mi ha simulato lo stesso l'ultimo commento di di Marco io più di altro lascerei una domanda cioè il discorso è però quante pratiche mediche andrebbero ridiscusse se non addirittura la maggior parte perché poi si parla anche io lo dico io sono sono non green pass e mi ha fatto schifo come per cui voglio già separami dalla massa e direbbe ah ok però siamo tutti fratelli però sicuramente su certe cose sono mi attengo di più alla chiamiamola medicina tradizionale o non lo uso in termini proprio ecco nel senso che sì faccio delle medicalizzazioni ottengo anche degli effetti avversi ma questo non per la transizione basta per tutto cioè per praticamente per tutto anche dalla semplice medicina piccina e quindi io qui lancio una provocazione non aggressiva ma è una domanda anche che mi faccio in luce a quello che dice Marco sul discorso sociale io sono d'accordo se si intende anche appunto la sessualità come qualcosa di sociale un individuo isolato che non viene mai a contatto col sesso opposto probabilmente non sviluppa la disforia perché non ha nemmeno la concezione che esista un altro rispetto a sé magari è vera però non mi sembra possibile nel mondo di oggi cioè per me ma anche per altri secondo me il discorso principale non è tanto farsi riconoscere nelle sociali anche se c'è molto quello poi dipende dagli individui c'è chi mette più in discussione o meno ma è una cosa che riguarda appunto la sessualità nel senso proprio di è un discorso adesso un po' complesso però acquisire proprio a livello fisico dei tratti altrui quindi poi ci sono anche delle varianti non mi sto a dilungare comunque secondo me il perché va più ricercato nella sessualità che sì è qualcosa di molto sociale anche e un po' meno o meglio si dovrebbe cercare di abbattere la motivazione esclusivamente sociale intesa come io mi comporto sono una femmina ma mi piacciono più le cose spiricolate mi vesto i pantaloni allora sono maschio cioè per ridurre a una scemenza il discorso però forse ci siamo capiti ecco in questa parte sì sono d'accordo anch'io che andrebbe molto ridiscussa e sì se anche una femmina si sente un maschio ed è più mascolina secondo me già una buona cosa è l'accettazione di questa cosa va bene sei una femmina sei mascolino ti senti come dire non è che ti senti già nell'agire nel portamento sei più mascolina rispetto a tante altre donne non c'è problema sociale alla fine così si deve venirsi incontro io aggiungo solo l'ultima cosa sul ruolo della medicina sì ogni cosa comporta rischio ogni cosa andrebbe costantemente discussa e ridiscussa e analizzata proprio perché non vi è certezza ma proprio per questo all'inizio della chiacchierata del dibattito avevo detto l'arte medica io non dubito che l'arte medica sia corrisponda come dire all'intervento minimo che la medicina sia la preservazione della salute non l'euforia interventistica ti senti in un modo tac intervento ti senti in un altro modo tac intervento mi dici un'altra cosa ho la posizione a portare in mano il nuovo farmaco il nuovo tratto quindi sicuramente per me la medicina è intervento minimo in generale questo te la butto lì in generale e qui direi che mi posso fermare e ragazzi vi faccio un'ultima domanda proprio ma botta e risposta come continuereste questo dibattito in futuro cioè su quali punti secondo voi sarebbe opportuno insistere in questo tipo di dibattito soprattutto per renderlo sano e non viziato da appunto sentimenti personali ecco bisogna trovare semplicemente persone disposte ad ascoltare che ti devo dire il tema è enorme dalle transizioni a tante altre cose prima ho citato l'utero in affitto attenzione alle alle falsità a ciò che viene propagandato secondo me mai perdere di vista che è un ruolo chiave in tutti questi processi è giocato dalla propaganda e poi per carità potrei dire anche un'altra sciocchezza il potere buono non esiste però la dico e mi fermo qui perché basta se no andiamo avanti veramente per le lunghe e con questo ragazzi io vi ringrazio per il vostro tempo per la vostra disponibilità al dialogo rinnovo l'invito chiunque volesse partecipare ad un dibattito con un tema di sua scelta può scrivermi tranquillamente nei commenti o in privato se ti è piaciuto questo video metti mi piace e iscriviti al canale ricordo che in descrizione trovate un link per le donazioni paypal se volete sostenere il mio lavoro il mio nome è Elisa benvenuti nel mondo nuovo 2.0